Il campo vettoriale Allora, sia, tanto per fissare le idee, discutiamo un campo vettoriale che sia un campo di forza e così possiamo usare la parola conservativa senza problemi però dovete ovviamente cogliere il succo matematico il succo matematico è vero per un discorso con campi vettoriali qualsiasi sia quindi F un campo vettoriale di tipo irrotazionale cioè conservativo nel senso della definizione dalla quale siamo partiti ok? Cioè sia un campo che ha questa proprietà che presi due punti qualsiasi l'integrale curvilineo non dipenda dalla curva ok? Questo è il punto di partita quindi sia F un campo con quella proprietà A Allora, prendiamo due punti, uno e un altro solo che uno di questi, pensatelo inchiodato, fermo scegliete un punto che vi piace tanto e quello lì lo chiamate un punto di... nella vostra testa è un punto fisso è il vostro punto di riferimento non chiamatelo origine perché non è detto che ha coordinate zero, x uguale a zero, y uguale a zero, z uguale a zero è un punto a che vi piace tanto e nella vostra testa tenetela inchiodata e invece l'altro punto lasciatela libero di muoversi cioè voi nella vostra testa questa la tenete ferma e questa la varierete allora se il campo vettorale F è irrotazionale conservativo allora sappiamo che il valore dell'integrale curvilineo dal vostro punto preferito al vostro punto libero di cambiare l'integrale curvilineo non dipende dalla curva ok? potete quindi tracciare a questo punto una curva a caso e calcolando l'integrale curvilineo lungo la curva ottenete un valore che sarà uguale a quella di calcolarla lungo qualsiasi altra curva quindi questo punto qua se la cambiate nella vostra testa voi la varierete il numero che ottenete è una funzione l'integrale curvilineo con un estremo inchiodato e l'altro libero di muoversi è una funzione del punto che è libero di muoversi è un numero e quel numero cambia quando questo tenete fermo spostate questo quindi come voi spostate questo punto il numero cambia quindi l'integrale curvilineo con il punto di riferimento fisso dipende dall'estremo superiore è un numero che dipende dal punto alla quale voi volete arrivare quindi è una funzione del punto libero siccome il punto libero è un problema bidimensionale o tridimensionale ha le sue coordinate quindi questa è a ben guardare una funzione in questo caso il caso tridimensionale è un problema di 3 variabili ok? adesso io voglio variare a partire dal punto P0 voglio fare una piccola variazione voglio variare di poco le coordinate del punto P0 ma ho 3 coordinate quindi voglio provare per esempio a variare solo la coordinata x quindi per esempio voglio pensare siccome questa è la coordinata x immaginate questo punto qua questo è il punto P0 questo punto che coordinate ha? ha coordinate x0 più delta x y0 z0 cioè ho variato solo la coordinata x ho variato solo la coordinata x quindi qual'è il valore della funzione nel punto, in questo punto qua il valore del punto il valore della funzione qual'è la funzione? l'integrale così dire no? nel punto nuovo sarà x0 più delta x y0 z0 meno phi nel vecchio punto cioè io voglio costruire questo rapporto incrementale questa è la variazione e voglio costruire questo ok? voglio costruire il rapporto incrementale come varia la funzione? quale funzione? l'integrale col belinio dal punto inchiodato al punto variabile quando vario di poco la funzione nella direzione x voglio calcolare il rapporto incrementale e studiarlo scriviamolo specificamente allora cos'è questo? questo abbiamo capito è questa roba qua chi è questo? beh siccome f è una funzione irrotazionale io posso pensare di andare dal punto riferimento lungo la qualsiasi punto fino a qua questa è la curva qualsiasi quindi l'integrale col belino da qua a qua è phi di P0 poi immagino un altro pezzo di curva che va dritto ok? cioè aggiungo alla curva, chiamiamolo la curva C un altro pezzettino che va dal punto P0 al nuovo punto e il nuovo punto come differisce da P0? differisce solo con la coordinata x ok? quindi questo è l'oggetto qua, la phi da x0 più delta x più come la posso scrivere? la posso scrivere come l'integrale evito di scrivere l'integrale guardo solo gli estremi dal punto di riferimento al punto P0 più un integrale che va dal punto P0 al nuovo punto chiamiamo questo nuovo punto che so il punto P solo questo è lungo la curva C che è qualsiasi e questa la voglio lungo questa curva qua quindi questo segmento qua lo scrivo segmento nella direzione x io posso scegliere le curve che voglio perché? perché per ipotesi questo campo elettorale è conservativo è rotazionale quindi posso scegliere io la curva intanto ottenerò lo stesso risultato se qualcuno sceglie le curve diverse capite il concetto? sono io a scegliere di andare dritto qua di andare dritto questo cos'è? questo ovviamente è phi del punto P0 e questo qui cos'è? è qua il bello quindi più questa è la mia funzione originaria la funzione in P0 questo qua cos'è questo qua? pensateci sto andando dritto nella direzione x allora invoco un teorema qual è il teorema? come lo chiamate voi? intanto siccome sto spostandomi solo nella direzione x quando vado a fare un integrale con il bilinio faccio f protoscalare dr se la mia dr è solo nella direzione x allora io qua prenderò f di x no? sarete d'accordo se scrivo una cosa del genere? da P0 al punto P di f di x in dx siete d'accordo se scrivo una cosa del genere? perché ho scritto così? perché quel segmentino questo segmentino è puramente nella direzione x quindi su questo segmentino qua ho la dr che è uguale a dx quindi quando vado a fare f prodotto scalare dr questo mi diventa devo fare il prodotto scalare di qualcosa che è puramente nella direzione x quindi questo mi diventa la componente x di f in dx lo vedete? sì o no? quindi qui io sto facendo un integrale a curvilineo ma la cosa interessante è che l'argomento qua questo integrando sono lungo punti che hanno lo stesso valore di y e per quello anche di z quindi dovete immaginare che c'è un problema tridimensionale e io ho variato solo la componente x del punto mi sono spostato nella direzione x non ho toccato la y e non ho toccato la z quindi a ben guardare questa roba che è qui ha le stesse coordinate come potrei scrivere? scrivo una cosa del genere sto variando la x d'accordo ma ha la stessa coordinata y e la stessa coordinata z in questo punto ho toccato solo il valore x quindi questo è dal punto x0 y0 z0 a un nuovo punto che è x0 più delta x y0 z0 cioè io sto integrando nella direzione x e basta la coordinata y e la coordinata z del punto p è uguale a quello del punto p0 lo vedete questo? ok? quindi io voglio che voi a questo punto io già sopprese il numeratore questo qua è la variazione di phi diviso la variazione di x quindi questa roba qua è questo meno questo quindi il numeratore di questo lo scrivo a sinistra quindi la variazione della funzione quando vario x è uguale a questo questo diviso questo è il rapporto incrementale quant'è? è l'integrale della parte a componente x di f pensata come funzione di x perché la y e la z non sono stati toccati e sto integrando questa pensata come funzione di x da x0 a x0 più delta x questo è un integrale ordinario cioè andando da qua a qua mi sposto solo nella direzione x senza toccare la y e senza toccare la z andando nella direzione x il mio prodotto scalare mi fa prendere solo la componente x della forza quindi è la componente x della forza le variavi da cui lui in teoria dipende sono x, y, z però proprio perché ho scelto quel segmento la la y e la z in realtà non le ho toccate e sta variando solo una delle tre variabili sta variando solo x e quindi questo è un integrale ordinario di quelle che studiate già dal semestre scorso dovete sapere l'integrale questo è un integrale ordinario quindi l'integrale curvilineo è diventato un integrale ordinario perché mi sono mosso in una sola direzione ma devo prendere la componente giusta allora questo è il nostro integrale c'è un teorema che voi dovreste conoscere l'abbiamo già invocato quindi so che lo conoscete perché si chiama il teorema della media e cosa dice il teorema della media? che è un integrale, lo ricito qua un integrale di una qualsiasi funzione ordinaria e come lo è questa? questa è una funzione ordinaria di una variabile perché queste sono come costanti come costanti quindi questo è, nota bene questo è un integrale ordinario perché sono libero di scegliere quel percorso da qua a qua andando dritto? perché so che il mio campo vettoriale è il rotazionale cioè andare da questo punto a questo punto otterrei la stessa risposta lungo qualsiasi curva che collega questo a questo quindi io scelgo la curva che mi è intelligente perché scegliendo questa curva il mio integrale ordinario si riduce ad essere un integrale ordinario questa è la fondata questa è la fondata sto usando la proprietà di f che per ipotesi è di tipo irrotazionale quindi andare da qua a qua per calcolarmi l'incremento l'incremento di fi cos'è? è il valore dell'integrale ordinario da andare da qua a qua meno andare da qua a qua quella è la variazione che fi subisce quando vario il punto, d'accordo? la variazione quindi è tutto meno il primo tranche quindi il pezzo netto in più, la variazione è quello che è il valore dell'integrale ordinario da andare da qua a qua lungo qualsiasi curva, potrei andare lungo questa, potrei andare lungo questa qui o potrei andare dritto per ipotesi attorno esattamente lo stesso valore perché è una funzione, è un campo dizionale irrotazionale, sto perdendo la voce per quale motivo sceglio il percorso dritto? scelgo il percorso dritto perché l'integrale curvilineo nell'andare da qua a qua mi diventa, scegliendo il percorso dritto, un integrale ordinario eccolo qua, sono furbo io, ho sfruttato la proprietà matematica del campo vettoriale adesso essendo un integrale ordinario posso invocare teoremi degli integrali ordinari e uno dei teoremi cosa dice? che l'integrale definito da a a b può essere scritta come b meno a moltiplicato il valore della funzione in un punto speciale che sono eta e eta è da qualche parte tra a e b ed è un valore tale che se considero, abbiamo già fatto questo disegno se questo è il valore a e questo è il valore b, c'è da qualche parte un valore di x, un valore eta che se sceglio il valore della funzione in eta, quello potrebbe rappresentare l'altezza di un rettangolo che quando lo moltiplico per la base b meno a mi da l'area sotto la funzione che non è certamente facile da calcolare l'area qua più o meno sarà uguale all'area di un rettangolo fatto così quindi questo sovrastima ma questo sottostima e magari quello che sottostimo qui compensa quello che è qua e quindi vedo che questo valore di eta, tra l'altro è la stessa cosa che era qua questa altezza mi da l'area corretta e questo è quello che mi sto dicendo l'area corretta può essere pensata come l'area di un rettangolo della base b meno a e di un'opportuna altezza, d'accordo? ecco, usiamo questo teorema perché possiamo invocarlo perché questo è diventato l'integrale ordinario il cancellino dov'è? quindi questo diventa l'area di un rettangolo di base cosa? delta x, giusto? il punto di base delta x è di altezza opportuna quindi è il valore dell'integrando in un opportuno punto quindi questo è un punto, lo scriviamo con tutta la sua e questo f di x in un punto eta nel punto y0, z0, delta x e questo eta cos'è? eta è un numero che è tra x0 più delta x e x0 questo è il teorema media c'è un eta là in mezzo c'è un p, ah il disegno l'ho ordinato quindi faccio tardi due secondi che la ridisegno questa è la curva che va fino a t0 poi faccio un tratto rettilineo per portarmi a t, ok? quindi sto variando solo la x quindi eta è un valore compreso tra x0 e x0 più delta x so che c'è nell'ipotesi che la funzione f di x sia continua perchè quando i matematici vi hanno raccontato il teorema ci sono delle ipotesi sulla funzione che sia continua, integrabile, non abbia patologie strane e qua certamente potete immaginare che le funzioni in fisica non hanno queste patologie possiamo andare abbastanza tranquille faccio un po' di spazio quindi cosa abbiamo appena concluso? questa qua era il rapporto incrementale facendo cosa? era variando solo la x quindi la scrivo in tutta la sua gloria FI di x0 più delta x nel punto y0 nel punto z0 meno FI nel punto x0, y0, z0 diviso delta x è uguale a F la componente x di F in un opportuno punto eta con coordinate x0, z0, delta x ah scusatemi, questo è delta FI mannaggia a me questo è delta FI questo è delta FI non c'è questa roba qua adesso divido per delta x per fare la propria capitale per cortesia è difficile per tutti e anche per me non credete che io sia qua a divertirmi? ok, quella è la variazione di FI la variazione di FI variando solo la x può essere espressa come il prodotto di delta x per il valore di F di x la componente di x in un punto che ha coordinate y0 e z0 e coordinate x con una coordinate x eta compreso tra x0 più delta x e x0 adesso divido per delta x per avere i rapporti calentari ahhh santa pazienza potrei fare come dicevano i vecchi docenti dicevano ragazzi questa è la matematica che vi serve arrangiatevi e ci vediamo io faccio fisica invece io sto cercando di di venirvi in conto raccontarvi delle cose che in teoria non dovrei fare perchè io mi siano fisico non è adesso cosa facciamo? facciamo il limite per delta x che tende a 0 perchè quel rapporto incrementale vi dovrebbe far pensare la derivata parziale rispetto a x questo è esattamente come si fa a fare la derivata parziale si costruisce un rapporto incrementale variando solo la x variate la funzione variando solo la x quindi fate il calcolo di delta quanto è cambiata la funzione? e la dividete per delta x quello è il rapporto incrementale quanto vale il rapporto incrementale? vale questo con eta compreso tra questo e questo adesso nel limite che delta x tende a 0 cosa succede? siccome eta è sempre tra x0 delta x e x0 quando delta x tende a 0 eta cosa fa? avete mai sentito? ai miei tempi si parlava del teorema dei due carabinieri c'è ancora? si dice ancora così? eh? quindi eta rimane sempre tra i due eh? con delta x che tende a 0 eta cosa tende? x0 x0 quindi con delta x che tende a 0 questa roba qua mannaggia a me che l'ho scritto qua giù e non l'ho posta per continuare a scrivere a sinistra quando fate il limite shhh quando fate il limite di nuovo sto scrivendo tutto per aiutarvi questo per definizione è la derivata parziale di phi nel punto P0 rispetto a x la derivata parziale di phi nel punto P0 rispetto a x la derivata parziale di phi nel punto P0 shhh questa è la definizione questa roba a sinistra quando faccio il limite allora a destra cosa succede? cioè questo tende a questo quando delta x tende a 0 e questo a cosa tende quando delta x tende a 0? questo tende al valore di fx nel punto x0 y0 z0 cioè f nel punto P0 perchè eta tende a x0 quando delta x tende a 0 il valore di là diventa il valore della componente x della forza nel punto P0 perchè delta x tende a 0 fa crollare fa collasciare eta sul punto x0 lo vedete? ho appena concluso un teorema estremamente importante che la derivata parziale di phi rispetto ad x shhh in un certo punto è uguale alla componente x della forza in quel punto cioè se la forza è irrotazionale allora esiste una phi qual è la phi? eccola qua inchiodate a caso un punto e la phi diventa la funzione del punto libero quale funzione? è il valore dell'integrale curvilineo quindi questa è la vostra phi eccola qua la vostra phi phi di P phi di P0 eccola qua la derivata parziale di questa funzione è proprio la componente x della forza ovviamente cosa succede? io potrei fare la stessa cosa invece di fare una variazione in x faccio una variazione in y cosa avrei? cambierebbe cosa? e se variassi da z quindi abbiamo appena dimostrato quindi vi assicuro vi faccio brevemente la variazione in z senza parlare va bene? senza parlare quindi sono gli stessi passaggi ma semplicemente voglio rifarlo così lo vedete quindi adesso il mio grafico questo è il punto di riferimento questo è il punto di riferimento questo è il punto P0 e voi andate qua a un altro punto P cioè non avete cambiato l'x0 avete cambiato invece la y0 la variazione di phi cos'è in questo caso? variando solo la y è diverso adesso perché ho variato solo la y quindi per esteso è phi nel punto x0 questa volta sto variando la y senza toccare x e z quindi sto cercando di calcolare questa variazione della funzione questo è il valore dell'integrale curvilinio andando da qua fino a qua questo è l'integrale curvilinio andando da qua fino a qua quindi la variazione è data quindi la variazione è data solo da questo pezzo qui e ho scelto io di andare dritti nella direzione y perché in quel modo queste differenze della funzione phi diventano un integrale ordinario da y0 a y0 più delta y della componente y della forza dove è la componente x che appare come una costante invece è la y che è una variabile la z appare come una costante e questa diventa di y questo è un integrale ordinario perché ho scelto io il percorso che mi permette di scriverlo come una funzione ordinaria vedete che l'integrando dipende da una sola variabile è un integrale ordinario se sceglievo una curva strana avevo un integrale curvilinio invece vado dritto solo variando la y senza toccare x e z in questo caso quindi l'integrando se volete la funzione che sto integrando dipende da una sola variabile quindi è un integrale ordinario questo diventa delta y che è la larghezza dell'intervallo su cui sto integrando per il valore medio di cosa? di f di y quindi questo diventa f di y in un punto che ha coordinate x0, coordinate eta, coordinate z0 per delta y dove questo eta è compreso tra y0 più delta y e y0 il teorema della media a questo punto divido per delta y per avere il rapporto incrementale dove ho variato solo y e questo è uguale alla componente y della forza in un punto x0 eta z0 adesso faccio il limite e quindi cosa deduco? tengo questo molto semplice stessa cosa eh? quindi ho appena dimostrato che se vale 1 se vale 1 allora vale cancello un po' di roba e lo scrivo qua vale da 3 se vale da 1 allora vale da 3 che è questa che esiste una phi tale che la mia v anzi ho parlato di f quindi vabbè usiamo il linguaggio matematico esiste una phi tale che la mia v sia uguale al gradiente di phi vedete che la componente x del campo vettoriale è la componente x del gradiente la componente y del campo vettoriale è la componente x del gradiente ok? questo è il linguaggio delle derivate e nella stessa dimostrazione c'è anche l'altro modo di esprimere il legame questo viene fuori da quello che abbiamo appena detto tac 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 e l'altro modo è da come abbiamo definito la phi ok? che la phi in un certo punto P è uguale l'integrale con il linio da un punto chiamato arbitrario di riferimento al punto P di cosa? del campo vettoriale v scalare da R ok? questo è il terzo modo di dire cos'è un campo irrotazionale adesso in fisica shhh quando si fanno forze cose qua si introduce un segno meno che non c'è nella matematica che ho fatto io ma che alla fine ve lo faccio due secondi guardate qua la phi cos'era? questa phi che è la terza asserzione asserisce che esiste e qual'è? per costruzione è questo allora cosa fanno i fisici? introducono una nuova frizione che è meno esplicitate se volete un segno meno esplicitate un segno meno e il motivo per cui lo si fa lo si capisce subito mi sa che vediamo che ore sono potrei farcela sono le 35 cosa potete andare via? 20 minuti in anticipo che è esagerato visto che dobbiamo poi recuperare tutte queste ore quindi vi siete già scontenti che dobbiamo recuperare poi volete dovreste rimaniamo fino alle 6 così tiriamo via un'altra ora da recuperare eh le 7 alle 2 ore ma ovviamente vi sto sfottendo ma se voi dite andiamo via adesso state peggiorando per recuperare il recupero no? tenete duro mamma mia io ho 35 anni con i tuoi aiutatemi con l'italiano voglio dire questo quando si ha a che fare con campi vettoriali i rotazionali che sono campi di forze questi campi di forze sono chiamati conservativi ok? vengono chiamati si capisce? vengono chiamate forze chiamate o chiamati campo di forze rotazionali viene chiamato quando si ha a che fare con un campo di forze irrotazionale non campi di forze un campo se avete un campo di forze ed è irrotazionale quel campo si dice conservativo viene chiamato quel campo il campo si dice si dice si dice si dice che F è conservativa un campo maschile conservativo ok? un campo maschile ok? un campo di forze irrotazionale si dice non so come si dice in italiano figo conservativo d'accordo? e la convenzione in fisica questo è fisico ormai stiamo facendo fisica qua questo è fisico ma dannati significa che fanno forze sono i fisici originari a fare forze non è? e si dice che è un campo conservativo se è irrotazionale sono parole sinonime nel contesto dei campi conservativi e si introdusse un segno meno cioè esisterà un campo scalare U Sh e il campo U cos'è? il campo U in un certo punto è uguale a meno l'integrale da un punto di riferimento scelto arbitrariamente al vostro punto che vi interessa l'integrale col bilineo della forza conservativa con il linguaggio delle derivate con il linguaggio delle derivate dite che la forza conservativa è uguale a meno il gradiente U questo segno meno vorrei spendere qualche parola e dovrei riuscire a farcela se è stato evitato quindi questa è la convenzione della fisica si esplicita il segno meno e se io morissi in questo istante credo infarto formulare voi in teoria in base agli appunti stamattina potreste essere in grado di capire perché i fisici mettono il segno meno in evidenza allora tutto nasce da qua la legge di Newton questa è la forza complessiva sulla forza sulla particella la forza totale la forza risultante ok? l'energia cinetica abbiamo visto cos'è? è un mezzo M al modulo quadro di V e sappiamo che la derivata di K rispetto al tempo è F prodotto scalare V io vorrei che voi riscriveste questo con il linguaggio degli integrali teorema fondamentale dell'analisi dice che la variazione dell'energia cinetica quindi K2 meno K1 la variazione di K può essere scritta come l'integrale ordinario di questa pensata come funzione del tempo invece da un istante 1 a un istante 2 e questa qua scritta con il teorema dell'analisi fondamentale teorema fondamentale dell'analisi ok? se la derivata di K rispetto al tempo è questa roba qua l'integrale di questa roba del tempo ok? molto semplice ovviamente pensando a questa come una funzione del tempo allora cosa succede? immaginate che questo sia l'asse dei tempi questo è l'istante iniziale T1 questo è l'istante iniziale T2 se io voglio fare una stima di questo integrale cosa faccio? prendo tanti istanti intermedi tra T1 e T2 quindi ho tanti delta T ok? allora questo lo rifaremo giovedì è un'anticipazione ma voglio sfruttare questi minuti così venite giovedì preparati a fare il discorso al passare del tempo shhh questo immaginate sia x y z immaginate che nell'istante 1 la particella è qua a T1 lui si trova qua quindi questo chiamiamo il punto A se volete il punto A che vettore posizione ha? RA RA è il valore di R quando T è uguale a T1 o T A chiamiamolo T A va? questo è T A e questo è T B questo è nell'istante A questo è l'istante B d'accordo? usiamo una notazione che si rifà a quello che ho usato poco fa quindi quando T è uguale a T A la particella si trova nel punto A dov'è il punto A rispetto all'origine? è all'estremo del vettore posizione RA dov'è il punto B? quando la particella arriva... ah sto scambiando qua questo è il B supponete che dopo un intervallo di tempo la particella si trovi qua quindi questo è il punto B questo è il vettore RB cosa si intende per RB? si intende il vettore posizione quando T è uguale a T B d'accordo? in un istante qua e in un altro istante qua adesso prendete l'intervallo di tempo e dividete in tanti istanti intermedi in tanti istanti intermedi lui si troverà qui poi qui poi qui poi qui poi qui poi qui cioè questa è la posizione in questo istante questa è la posizione in questo istante in questi istanti si sposterà in uno spazio quindi nel suo spostarsi per effetto della legge di Newton perchè si sta spostando lungo una curva e non una linea retta? perchè c'è una forza no? lui fa quella curva perchè c'è una forza ma all'istante al passare di questi istanti quindi voi dovete immaginare che la particella si trovi qua poi qua poi qua poi qua è chiaro che la curva vera magari è una cosa del genere ma questi punti intermedi che corrispondono ai stanti intermedi vi dovrebbero far pensare alla spezzata quindi quello che sto sostenendo e giovedì continuiamo è che questo integrale qui ordinario può essere convertito in un integrale curvilineo questo è un passaggio fondamentale che dovete pensarci guardare nei libri quindi se non capite i miei appunti questo è un integrale ordinario integ ordinario nel tempo e io lo converto in un integrale curvilineo del tipo che stiamo parlando già da due ore quindi divento un integrale curvilineo che va dal punto A al punto B cioè al punto iniziale che corrisponde all'istante iniziale al punto finale che corrisponde all'istante finale e la curva lungo la quale io calcolo l'integrale curvilineo è la traiettoria che la particella fa soggetta alla massa M se lui fa quella curva là è perché c'è la forza che lo sta facendo seguire quella traiettoria quindi la curva che io individuo nello spazio al passare del tempo su questi tic, istanti temporali è la traiettoria, la curva che la particella veramente segue al passare del tempo questa curva qua è una parabola quella curva in un istante da qua un altro istante da qua un altro istante da qua al passare del tempo la particella si sposta allo spazio e la curva che lui segue si chiama traiettoria quindi io converto questo integrale ordinario del tempo in un integrale curvilineo calcolando lungo la traiettoria quindi scrivo così questo passaggio ve lo giustificherò giovedì si può capire qua che c'è una cosa di questo tipo perchè vedete guardate qua io posso prendere questi qua e cos'è v di t? è lo spostamento da r quindi questo qui io la penso come lo spostamento da r fatta così è un po' cianconesco giovedì cerco di convincervi di più ma almeno vedete che è plausibile una cosa del genere v di t io la scrivo da r e quindi ho a che fare con un nuovo integrale che non è un integrale ordinario ma è un integrale del tipo che vi ho parlato già da due ore ormai è la terza ora è un integrale curvilineo ok? ma adesso supponete che supponete che la forza sia di tipo shh mettiamola così se io vi chiedo qual è la variazione di energia cinetica voi per rispondere dovreste conoscere come varia la forza del tempo e la velocità del tempo oppure dovreste conoscere già la traiettoria ma supponete che voi l'equazione di Newton non la sapete integrare cosa fate? andate a casa non sapete andare avanti ma supponete che qualcuno vi dica ma la forza è conservativa shh allora se f è conservativa cioè nel senso matematico è irrotazionale allora l'integrale curvilineo non dipende dalla curva quindi anche se voi non conoscete la traiettoria potete già fare una risposta perchè potete dire che è uguale all'integrale curvilineo per la vostra forza lungo una qualsiasi curva qualsiasi che congiunga ovviamente a e b quindi questa è qualsiasi sta a voi alla vostra immaginazione questa per sapere la traiettoria dovreste già essere in grado di dire un sacco di cose mi spiego forse con questa cosa qua supponete che questa sia una particella che vola sotto l'effetto peso la forza peso sta facendo questa traiettoria qua shh e io vi chiedo qual è la variazione dell'energia cinetrica tra questo punto e questo punto voi cosa fate? anzi ve la rendo ancora più primitivo questo è il punto iniziale e questo è il punto finale che è il punto A e il punto B e supponete che voi proprio in fisica non vi ricordate un tubo non vi ricordate come calcolare la traiettoria quindi non sapete la traiettoria perchè non l'avete studiato non sapete che è una parabola non sapete niente sapete solo che la particella è qua poi si troverà qui e sapete che la forza è di tipo verso il basso quindi m g u di x dove u di x è verso il basso supponete che voi sapete solo questo non sapete la traiettoria io vi chiedo oh! vuoi superare l'esame? allora dimmi qual'è la variazione dell'erogia cinetica dall'andare da AB il teorema se voi arrivate fino a qui non andate da nessuna parte perchè la variazione dell'erogia cinetica è questa roba qui ma voi per andare avanti così dovete conoscere già la velocità ma voi non la sapete perchè non l'avete studiato poi vi viene in mente ah! ma posso convertire questo integrale ordinario in un integrale curvilineo ma non andate da nessuna parte anche qui perchè non conoscete la traiettoria perchè non l'avete studiato però vi ricordate che è conservativo e allora potete usare qualsiasi curva che colleghi A e B e allora ecco la curva che collega A e B guardate giù calcolate l'integrale curvilineo io allungo questa curva di convenienza non è la curva vera è una curva di convenienza e sapete che è NG XB-XA basta ecco il trucco la curva vera è questa ma non siete obbligati a stare sulla curva vera se la F è conservativa perchè potete scegliere qualsiasi curva vedete la potenza dell'idea? voi potete ignorare la traiettoria ma se qualcuno vi garantisce che la forza è conservativa il conto viene dovete semplicemente calcolare l'integrale curvilineo lungo una qualsiasi curva una che matematicamente mi piace ecco una che matematicamente mi piace perchè? perchè metti in evidenza che ho un tratto verticale lungo la quale avrò un contributo non nullo e ho un contributo risultare che è nullo ma la curva vera è quella la ecco che quelli erano meno 10 minuti o era l'ora? 10 minuti vi faccio un altro esempio e poi ci lasciamo ma state zitti ecco supponiamo che questo sia il sole e questo sia, che so un asteroide piccolino la massa del sole è molto più grande rispetto alla massa dell'asteroide e qualcuno vi chiede shhh qualcuno vi chiede qual è la variazione dell'energia cinetica tra quando la particella è qui nel punto A a quando è qui nel punto B voi avete gli strumenti perchè l'abbiamo fatto stamattina coraggio sfilatevi accettate questa sfida qual è la variazione di energia cinetica nell'andare dal punto A al punto B è chiaro che qua non andate molto lontani perchè non conoscete la funzione del tempo ascoltatemi queste sono le parole chiave voi per usare l'integrale ordinario del tempo avete bisogno di conoscere la f come funzione del tempo avete bisogno di conoscere la velocità in funzione del tempo dovete fare in funzione del tempo e poi integrare il tempo adesso voi non sapete praticamente niente della forza di gravitazione quindi non conoscete come la forza varia del tempo durante il suo passaggio da A a B non sapete non sapete questo non sapete quello come cazzo farete a calcolare questo ovvero in questo linguaggio come fate a calcolare questo se non conoscete la traiettoria qual è la traiettoria che segue un asteroide attorno al sole? la sapete calcolare? sapete scriverla in maniera esplicita in modo da calcolare questo? la forza e funzione a distanza la conosciamo l'abbiamo usato stamattina ma la traiettoria perchè voi dovete in linea di principio per calcolare questa integrale corvirina avete bisogno di specificare la curva però poi vi ricordate ma la forza gravitazionale è conservativa è conservativa quindi a me non interessa nel calcolo specificare la traiettoria la posso ignorare posso scegliere una qualsiasi funzione che collega i due punti a e b qualsiasi qualsiasi eh? adesso forse si dipana la curva era come Newton ha dimostrato è una elisse o comunque una sezione conica dovrei disegnarlo per bene magari una cosa del genere ok? è un'elisse ma la curva matematica di convenienza lungo la quale io la calcolarò sarà una funzione del genere dove questo per esempio unaggio a me che ho messo la curva viola che mi viene il disegno questo è il sole questo è la particella è il punto B disegno un cerchio una sfera anzi disegno una sfera di raggio rv questo è di raggio rv la particella era qua su un raggio a una distanza r e a certo la curva vera è un'elisse ma io non ho bisogno di sapere questo allora io calcolo una curva io calcolo lungo una curva intelligente curva dove rimango guardate rimango alla distanza rv fino a questo punto qua e poi vado dritto pensateci perchè questo mi da la risposta è giusta ovviamente non ho tempo per scendere i dettagli e riprendiamo qua giovedì ma la risposta finale questo lo possiamo scrivere è che l'energia cinetica questo scrivete giù perchè è il programma la variazione dell'energia cinetica è uguale a U U punto A meno U punto B quindi cos'era la U di stamattina? cos'era la U di stamattina? la U vi ricordate era meno Gm diviso m diviso r più C quindi ho C che va via perchè avrò C ci sono entrambi e questo è con la A quindi avrò meno Gm m diviso r a meno meno più Gm m diviso r di ok? quindi la mia risposta è che è uguale Gm m 1 diviso r di meno c questo riprendiamo giovedì ma intanto avete la risposta devo giustificarvi che questo si può fare così quindi la variazione dell'energia cinetica non mi serve conoscere la traiettoria perchè? perchè vi convincerò che la forza gravitazionale come anche la forza di Coulomb sono forze conservative cioè sono irrotazionali e quindi non ho bisogno di usare la traiettoria ma posso usare qualsiasi curve questo è il passaggio ci vediamo giovedì